Hamas let them handcuffed. Dal 7 ottobre non dormiamo più, mangiamo appena. Il nostro unico pensiero è rivolto ai nostri familiari che sono nelle mani dei terroristi di Hamas. A dirlo è Maya Kaplun. Suo padre è stato rapito e di lui non si hanno più notizie. Prende la parola alla mamma di Andrei Kozlov, uno dei 240 ostaggi rapiti da Hamas. So che mio figlio non farà parte dello scambio di prigionieri. Non so quanto tempo dovrò attendere. Sono distrutta. Quando potrò riabbracciare mio figlio? Da più di un mese i familiari degli ostaggi stanno chiedendo la liberazione dei loro parenti. Ci sono madri, sorelle, padri, mariti. Sono venuti a Roma per incontrare Papa Francesco. Un incontro dove a parlare sono stati soprattutto gli sguardi, gli occhi sulle foto degli ostaggi di Hamas. Quest'uomo ha chiesto a Papa Francesco la benedizione dei suoi figli e dei nipoti ancora nelle mani dei terroristi. Noi familiari degli ostaggi siamo immensamente grati a Papa Francesco per averci ascoltato. Siamo sicuri che ha fatto tutto il possibile e continuerà a farlo anche in futuro. Siamo tutti contrari alla guerra. Non vogliamo vittime innocenti da nessuna parte. Farah di Betlemme gli ha raccontato di Ahmed, suo fratello gemello ucciso nel 2020 al checkpoint del suo corpo ancora sotto sequestro in una cella frigorifera dell'Università di Tel Aviv. Ognuno dei dieci familiari di palestinesi, inchiodati a Gaza o altrove dal riaccutizzarsi del conflitto, ha raccontato al Papa la propria storia fatta di lacrime e perdite. Cadeia, musulmana in attesa di un bimbo, pensa alla sua famiglia decimata nei bombardamenti, nove adulti e due bambini. Yosef, cristiano, al suo migliore amico spazzato via insieme ad altri 17 fedeli, morti nel bombardamento della chiesa ortodossa di San Porfirio. L'inferno di Gaza, narrato e condiviso con Francesco, che ha pianto ascoltando le storie dei palestinesi. Lui ha pianto quando ha sentito le nostre storie. Noi gli abbiamo chiesto di venire a Gaza per vedere con i suoi occhi e lui ha detto che è una buona idea, che cercherà di venire. Abbiamo apprezzato il suo costante e continuo appello per un cessate il fuoco. Speriamo che lui possa continuare a fare pressione per una tregua ed eventualmente per una pace giusta. I familiari dei palestinesi hanno dichiarato che Papa Francesco avrebbe usato la parola genocidio per ciò che da 47 giorni si vive nella striscia di Gaza. Un'affermazione smentita dal direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Il realistico che Francesco abbia usato questo termine ha commentato poco dopo il segretario di Stato Vaticano troppe le implicazioni diplomatiche e politiche. Senza dubbio, come racconta Shiri, nell'incontro c'era un'atmosfera di profonda condivisione e solidarietà e il Papa ha ribadito quanto detto in mattinata il terrorismo non giustifica altro terrorismo.